Ma cosa ci fanno 5 chef stellati, uno scrittore e 3 celebrità della canzone, tutti rigorosamente abruzzesi insieme? Danno vita a una grande raccolta fondi per i bambini del reparto di chirurgia di Pescara. È la forza che scaturisce dalla determinazione dell'Adricesta Ollus, l'associazione che da tantissimi anni è impegnata a garantire il miglioramento dell'adeggenza dei piccoli in ospedale. Tutto questo nasce dall'avvicinarsi a noi di Ugo del Castello che da Roccaraso è venuto qui in ospedale e ha visto le targhe della nostra associazione su alcuni ambulatori e per alcuni progetti e si è informato sulla nostra associazione e mi ha contattata per offrirmi questo libro, questa fiabba meravigliosa che parla un po' dei nostri ignomi, delle nostre montagne, una fiabba per far sognare i bambini e voleva donarci questi libri. Poi grazie proprio a lui ci siamo messi in contatto con Nicoromito, ha voluto chiamare intorno a sé altri chef stellati d'Abruzzo e quindi è nata proprio una solidarietà stellata, come la chiamo io, perché quando si arriva a certi livelli si arriva alle stelle, soprattutto quando riesce a donare un sorriso a un bambino. Nuovi arredi, meno faticenti e scomodi e più colori per ricordare ai bambini la spensieratezza della loro età. Anche la scienza ringrazia l'impegno dei volontari e dei benefattori che capiscono l'importanza di offrire sensibilità e vicinanza ai genitori in corsia e ai piccoli pazienti che affrontano delicati interventi in tenerissima età. La solidarietà, le associazioni di volontariato, più sono forti, più il paese è evoluto. Quindi non è che perché c'è un servizio sanitario che non fa fronte, ma perché il servizio sanitario nazionale si deve occupare di certe cose. E probabilmente quel di più che comunque può fare la differenza, almeno a livello di umanizzazione, è forse anche giusto che il volontariato faccia la sua parte. Domenica 22 febbraio i migliori chef d'Abruzzo coloriranno i loro piatti e offriranno un menù delle grandi occasioni a tutti i presenti, deliziando i loro palati e devolvendo tutto il ricavato a chi rincorre l'ambito traguardo di un mondo a portata di bambino. Devo dire che adesso mi stanno proprio comunicando che abbiamo superato il numero, il limite massimo delle adesioni alla cena. Quindi abbiamo un overbooking anche questa volta. Molto probabilmente noi la sera, noi volontari, daremo il posto ad altri e andremo a mangiare una fettina panata, come dicono a Roma.